Giornata di festa, quella vissuta dal giovanissimo Domenico Lamante, presso la Sala San Ceteo del Comune di Pescara. Infatti il sindaco Carlo Masci, alla presenza dell'assessore allo sport Patrizia Martelli e del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, ha voluto premiare l'atleta della Lega Navale Italiana per aver rappresentato con orgoglio la città di Pescara nei recenti campionati europei svoltisi in Portogallo, raggiungendo il prestigioso titolo giovanile Laser 4.7 nella categoria Under 16 e classificandosi terzo nella classifica overall. Ha raggiunto un risultato eccezionale che ovviamente premia la sua dedizione, la sua costanza, il suo impegno, il suo sacrificio, anche la sua capacità di raggiungere questi risultati. Ho detto ai ragazzi che erano qui, anche ragazzi veramente bambini, che lo sport è essenziale nella vita perché lo sport insegna il rispetto delle regole, insegna che si può perdere e si può vincere, insegna il sacrificio per raggiungere l'obiettivo. Lo sport non accetta raccomandazioni, se nello sport sei in gamba raggiungi l'obiettivo altrimenti non lo raggiungi. Diciamo che dopo il lockdown, dopo quest'anno un po' particolare, il movimento della Vela è ripartito molto molto bene, le nostre scuole di Vela praticamente sono state sold out quasi tutta la stagione, anche qui in Abruzzo e in particolare a Pescara. Credo che questo possa stimolare, il risultato di domenico, ma comunque parlare di Vela possa stimolare anche in Abruzzo una migliore partecipazione e soprattutto anche far comprendere che lo sport della Vela può essere anche un grande obiettivo per il turismo. Il turismo sportivo oggi è un elemento che in tante aree è preso in considerazione e io mi auguro che si possa anche considerare il turismo sportivo e quello nautico anche in Abruzzo. Certo, è una bellissima emozione e ringrazio tutti per la presenza. Sì, una gara molto difficile, avversari di altissimo livello, tesa fino all'ultimo e sono riuscito a rimanere costante, a portare a casa il primo posto e anche il posto, la location era diversa, diciamo, il posto era diverso, condizioni diverse, oceaniche, sono andato prima per allenarmi, ho capito subito il campo, sono riuscito a interpretarlo velocemente e mi sono trovato bene. Adesso tornerai anche a scuola e sarai anche omaggiato dai tuoi compagni di classe. Sì, sì, sono già rientrato a scuola, ovviamente, congratulazioni e tutto, ma è un altro ambiente, bisogna studiare, si rinizia.